Cari amici, cari amici, voi mi conoscete vero? Io sono il neurologo più famoso del web e la mia professione è grandiosa perché noi neurologi penetriamo nella mente degli esseri umani e abbiamo una dignità da rispettare. Io sì sì è vero che sono dato un pensione a 50 anni perché i miei nervi non reggevano più, tanto ci pensa lo stato sociale a mantenermi sino alla morte e poi sto pure con la figlia mia che mi si vuole tanto bene. C'è Serafino Massoni che ha fatto il video intitolato padre e figlia in famiglia per far capire quanto ci sta bene un neurologo con la figlia sua però c'è un fatto che io qua digitando su web e sono andato a vedere la notizia che riguarda un mio collega neurologo ne parla il sito triestelive.it e triestelive.it ricava la notizia da il piccolo quotidiano di Trieste. Vediamo un po'. Neurologo palpiggiatore, due punti, pena confermata doveva essere una visita neurologica? In realtà è stata una violenza sessuale. Per questo il neurologo monfalconese Alberto Cardinali, 70 anni, è stato condannato dalla corte di Cassazione alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. I magistrati hanno confermato la sentenza della corte d'appello di Trieste. In primo grado quel mio collega era stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, poi aveva proposto appello, si fa sempre così, e quindi ricorso alla Cassazione ha detto, è un'insustizia, non ho mai fatto violenza, sono innocente, ha dichiarato, ha provato ieri professionista. I fatti al centro della vicenda giudiziaria risalgono al mese di aprile del 2001. Mi sa che io sono andato in pensione tra il 2000 e il 2001, mi sono fatto una bella pensioncina. Mi erano saltati i nervi, ho detto ma io me ne vado in pensione e buonanotte al secchio. Quando il dottor Cardinali durante la visita specialistica aveva manifestato attenzioni ritenute particolari, aveva fatto spogliare la paziente e poi l'aveva sottoposta a palpeggiamenti e esplorazioni manuali vaginali e rettali, il neurologo deve andare dentro, il retto deve andare per valutare il cervello, senza che tali manovre facessero in alcun modo parte del protocollo di una visita neurologica, ma pure in credito non le sa queste cose. Quelle manovre ha sostenuto in appello il professionista che si è difeso con tutte le sue forze, potevano essere inutili, ma non al sfondo sessuale. Lo scopo libidinoso è solo una percezione, se uno gli mette in dietro un culo è solo una percezione della paziente, un neurologo, se fosse un esploratore rettale, ok, ma pensate un po' quanto è il cretino questo mio collega, neurologo, tutto fa fare una brutta figura a tutta la categoria mia, specialmente a quelli come me che fanno un pezzone a 50 anni perché non gli reggono più i nervi. E quelle manovre potevano essere inutili, ma non al sfondo sessuale. E lo scopo libidinoso è solo una percezione della paziente che durante la visita è rimasta silente e non ha avuto alcuna reazione. ma come, tu gli metti il dito nel culo e dici che non c'è lo scopo libidinoso, ha fatto bene la Cassazione a confermare la condanna della Corte d'Appello a questo mio brutto collega, brutto collega che ha rovinato il nostro onore di noi neurologi, neurologi, capito? Megoglioni, neurologi come me che vanno in pensione a 50 anni e poi si mettono su web e sono andati in pensione a 50 anni perché non gli reggeva più il sistema nervoso, capito? Andatelo a vedere pure voi sta brutta notizia, capito? Sta brutta notizia. Chissà quanto è contento Serafino Massoni di questa notizia, chissà che ci farà pure sopra i video ci farà, intanto sto in pensione e sto con la figlia mia e non me ne frega un cazzo che Serafino Massoni abbia fatto un video intitolato padre e figlia in famiglia, va bene abbiate fiducia nei neurologi o neurologi, va bene che mi raccomando e continuate a avere fiducia in noi. Tanti amici dal neurologo, tanti saluti dal neurologo del web. Serafino Massoni